Sapete, nel mondo digitale di oggi la comunicazione è fondamentale per avere successo e uno strumento per comunicare in modo efficace è la newsletter. La newsletter è un aggiornamento informativo periodico che un'azienda o un professionista fa nei confronti degli utenti che sono iscritti a questa lista, in genere una lista di mail. Si può creare appunto un automatismo e dove gli utenti vengono aggiornati su quello che l'azienda sta facendo, sulle nuove uscite, sui programmi eccetera eccetera. Quindi se riesci a creare una newsletter ben strutturata sicuramente hai dei vantaggi enormi rispetto ai tuoi competitor. Quindi in genere come funziona? Si crea un automatismo di email marketing, si crea una lista dove le persone si possono iscrivere e questa lista appunto conterrà tutte quante le mail degli utenti che sono iscritti alla nostra newsletter e ai quali appunto possiamo inviare delle comunicazioni e condividere anche informazioni preziose per far crescere il nostro business. Oggi voglio farvi vedere come crearne una in modo totalmente gratuito grazie a System.io. Ora magari vi starete chiedendo perché devo utilizzare proprio questo strumento, questa piattaforma che mi stai dicendo, quali sono i vantaggi che avrò? Considerazione giusta ma voglio darti anche una risposta. Primo tra tutti perché questa piattaforma è incredibilmente potente, è una piattaforma di marketing a 360 gradi e a differenza di tanti altri competitor è super accessibile. Offre una serie di strumenti all'avanguardia e il piano gratuito che mette a disposizione praticamente ci permette di fare già la maggior parte delle attività e i limiti sono molto ampi rispetto invece ai concorrenti che magari ti offrono ecco il piano gratuito con un numero limitato di invio di email e cose di questo tipo, mentre qui ad esempio le mail sono illimitate anche con il piano gratuito. In questo video quindi voglio guidarvi passo dopo passo nella creazione della vostra prima newsletter o comunque di questa nuova newsletter. Partiremo proprio dalla registrazione al sito per arrivare alla creazione del primo contenuto e la modifica anche del template grafico. Impareremo a capire come gestire la lista dei contatti e come gestire le funzioni avanzate. Detto così sembra complesso ma fidatevi che è molto più semplice a farsi che a dirsi effettivamente. E la piattaforma poi adesso la andremo a vedere è super intuitiva. Infatti non voglio perdermi ancora in chiacchiere perché preferisco spostarmi direttamente al pc e partire insieme a voi. Eccoci qui su system.io. Come sempre troverete il link per accedere in descrizione al video. Per iniziare vi basterà cliccare su inizia gratis se non avete ancora un account altrimenti potrete fare direttamente il login su accedi. Quindi una volta registrati la procedura davvero veloce possiamo fare il login. Una volta all'interno io adesso inserirò le mie credenziali. Ok eccoci qui all'interno della dashboard. Per creare una newsletter ci basta andare su email e poi su newsletter. Da questa pagina possiamo andare su crea e creare la nostra prima newsletter. Io adesso qui già l'ho creata però va ancora settata e modificata volendo. Però prima di fare tutto ciò è importante andare a creare alcuni tag. Andiamo a vedere cosa sono e dove possiamo crearli. Andando qui su contatti. Ok da qui adesso ho aggiunto alcuni contatti di test. Ok ne ho aggiunti cinque. Da qui noi abbiamo la possibilità di o importare dei contatti che ci hanno già fornito il permesso per poter inviare delle mail di marketing. Oppure questa sezione verrà popolata dalle mail che riceviamo ad esempio dal nostro funnel. Quindi dalla nostra pagina di opt-in dove andiamo a ricevere i contatti. Quindi una volta che abbiamo un numero di contatti al quale vogliamo inviare una newsletter bisogna andare a creare prima di tutto un tag. Quindi andiamo qui andiamo su tag e da qui andiamo su crea tag. A questo punto dobbiamo andare a fornire il nome. Ma che cos'è il tag? Praticamente lo possiamo immaginare come se fosse un'etichetta che viene associata ad alcuni contatti specifici per poter categorizzare i vari contatti ed inviare newsletter specifiche. Andremo quindi ad associare ad alcuni contatti questo tag così che andiamo a dividere il nostro gruppo di contatti per poter inviare magari anche diverse newsletter. Ad esempio abbiamo un gruppo di contatti interessati alla pubblicità online. Possiamo andare a mettere pubblicità. Andiamo su salva. Dopodiché andiamo a creare un altro tag siti web ed andiamo su salva. Ok? Perché magari noi potremmo aver ricevuto dei contatti per quanto riguarda magari lo sviluppo di siti web. Quindi persone interessate al web design ed altri contatti magari interessati esclusivamente alla pubblicità online. Quindi a ricevere un servizio di questa tipologia. Adesso vi sto facendo naturalmente degli esempi ma che possono essere applicati a tutti quanti i vari campi. Adesso abbiamo creato i nostri tag. Torniamo sulla newsletter. Quindi eccola qui. A questo punto se non abbiamo ancora creato la newsletter ci basterà andare su crea. Qui possiamo scegliere l'oggetto, il nome del mittente che saremo noi e la nostra email con la quale andiamo ad inviare la newsletter. Andremo ad inviare la newsletter. Possiamo scegliere l'editor visuale o l'editor classico. Quindi con l'editor visuale possiamo andare a modificare i vari blocchi. Adesso lo andremo a vedere mentre con l'editor classico andremo a scrivere una semplice mail come ad esempio dalla nostra casella di posta. Quindi se ad esempio andiamo a scegliere editor visuale abbiamo diversi template già disponibili. Possiamo selezionare il modello ad esempio questo qui ed andiamo su salva. Fatto ciò vi faccio vedere. Vi aprirà direttamente questa qui che io già avevo creato. Eccola qui. E appunto da qui noi possiamo sempre passare al vecchio editor quindi all'editor classico per scrivere direttamente la mail. Oppure possiamo andare a modificare i vari blocchi. Se ci clicchiamo dentro infatti si aprirà questo pannello dove possiamo andare a modificare il logo. Quindi da qui caricare il nostro logo. Possiamo andare a modificare questo menu. Possiamo andare a modificare le varie immagini. Quindi possiamo andare a caricare una nostra immagine. Qui possiamo andare a scrivere direttamente il testo. Quindi qui possiamo modificarlo completamente come preferiamo. Qui possiamo andare ad inserire anche dei link. Quindi l'url che ci porterà direttamente magari in questo caso sull'acquisto. Quindi sulla pagina specifica del prodotto che vogliamo promuovere eccetera eccetera. Quindi possiamo andare a modificare questo template come preferiamo. E infine ci basterà cliccare su salva modifiche per salvare le modifiche applicate. Fatto ciò possiamo cliccare su esci. Andiamo anche a dare un'occhiata all'editor classico. Quindi se vogliamo passare all'editor classico. Vedete siamo qui e possiamo scrivere una semplice mail. Possiamo andare ad inserire questi sostituti. Ovvero sono delle variabili che ci permettono di andare ad esempio first name andrà a prendere in automatico il nome dell'utente. Quindi verrà una mail automatizzata ma nello stesso tempo anche personalizzata per singolo utente. Perché l'utente quando riceverà la mail vedrà ad esempio buongiorno con il suo nome e quindi sicuramente sentirà che quella mail è stata scritta appositamente per lui. Quindi è sicuramente un vantaggio. Quindi qui possiamo poi proseguire con la nostra email che vogliamo inviare. Una volta fatto ciò qui possiamo andare a selezionare i tag che abbiamo già creato precedentemente. Una cosa però importante andando qui su contatti. Una cosa importante è andare a selezionare alcuni contatti ed andare ad associare il tag di riferimento che abbiamo creato. Quindi andiamo qui in basso a destra su più azioni. Andiamo su aggiungi tag. Ad esempio a questi due contatti che ho selezionato so che fanno parte del settore della pubblicità. Quindi andrò a selezionare pubblicità e vado su aggiungi tag ai contatti. Vedete? E si aggiungerà qui di fianco il tag pubblicità. Mentre questi altri tre so che fanno parte del settore dei siti web. Quindi gli vado ad associare il tag siti web. Aggiungi ai contatti. Ecco fatto. Abbiamo distinto i gruppi dei nostri contatti. Tornando adesso qui possiamo andare a selezionare ad esempio il tag pubblicità se questa newsletter vogliamo farla vedere solamente quindi inviarla solamente ai contatti provenienti da quel settore specifico e ai quali appunto abbiamo associato quel tag. Altrimenti possiamo selezionare anche siti web per inviarlo ad entrambi o escludere uno e lasciare l'altro. Nel caso in cui avessimo avuto un tag che comprende tutti quanti i nostri contatti potevamo selezionarlo e qui in basso magari escludere un tag specifico per inviare questa newsletter a tutti i nostri tag escludendo però un gruppo specifico. Qui possiamo salvare ed inviare una mail di test e qui possiamo salvare e programmare la newsletter. Quindi andiamo su salva e programma. Ok non avevo selezionato i tag quindi andiamo a selezionare ad esempio pubblicità. Andiamo su salva e programma la newsletter. Da qui possiamo andare a programmare l'orario di invio. Quindi possiamo inserire in automatico verrà inserito l'orario attuale. Quindi se vogliamo inviarla subito se vogliamo inviarla ora ci basterà cliccare su programma lasciando questo invariato. Altrimenti andiamo a modificare la data. Quindi possiamo mettere ad esempio giovedì 8 e selezionare anche l'orario specifico ed andiamo su programma. Ok in questo caso lascerò direttamente oggi. Adesso. Ok e quindi adesso possiamo andare su programma. Andiamo su conferma. Ok quindi aggiornando la pagina possiamo vedere l'orario e la data di invio con la spunta verde che significa appunto che l'azione è stata eseguita. Qui possiamo vedere delle statistiche quindi le mail inviate. Adesso sono zero perché le mail che ho creato non sono email valide. Sono email di test che ho creato per esempio. Qui possiamo vedere la percentuale di apertura. Quindi quante email sono state effettivamente aperte e clicche su eventuali link. Qui possiamo andare su statistiche per avere un approfondimento un po' più completo. E qui possiamo scegliere di rinviare questa newsletter ai contatti che non l'hanno aperta. Insomma cosa ne pensate è una figata. Dite la verità. Lasciatemi un commento qui sotto. Mi raccomando se vi è stato utile lasciate anche un like e iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.